Il versetto che ci viene proposto per oggi si trova in Prima Pietro, capitolo 5, versetto 10, e dice così Questo versetto era proprio per me oggi, anche se in realtà non dovevo fare io la meditazione, ma ho sostituito una persona che ha avuto degli impegni improvvisi. Vi dicevo che però non è stato un caso, perché un attimo prima di accingermi a leggere il versetto e fare la meditazione, ho ricevuto una brutta notizia, la notizia della scomparsa di una persona a me molto cara, che come potete immaginare mi ha molto scosso. Ma il Signore era pronto con la sua speciale consolazione, il versetto di oggi. Dobbiamo soffrire per un po' di tempo. Questo tempo per noi certe volte sembra lungo, interminabile, ma i nostri parametri temporali sono molto diversi da quelli divini e non dobbiamo permetterci di giudicarli. Ma il Signore è vicino a noi, per aiutarci e sostenerci, come dice il canto che sentite in sottofondo, Tu mi hai rialzato per camminare su acque tempestose, e sono forte quando sono fra le Tue braccia. Che il Signore ci aiuti a sentire il suo sostegno nella paziente attesa del suo ritorno. Amen Grazie a tutti